Potrebbe essere un venerdì molto caldo quello di domani per i lavoratori della GESIP. I dipendenti della Società di Servizi di Palermo da due mesi senza stipendio hanno deciso di scendere in strada domani con un corteo che attraverserà parte del centro della città. Il concentramento è previsto a Piazza Croce alle 9.30, poi il corteo sfilerà lungo la Via Libertà fino alla sede del Comune in Piazza Pretoria. La manifestazione è stata annunciata ieri alla fine dell'Assemblea che si è tenuta al Donorione di Via Pacinotti e che ha visto alla fine una nuova spaccatura tra i sindacati. In piazza ci saranno infatti le sigle sindacali autonome, ALBA, UGL, Conflavoratori, CISAL e ancora USB, ASI e CISAS, ma non CGL e CISLEWILL. A esasperare gli animi, quello che i sindacati autonomi hanno definito un atteggiamento di immobilismo da parte del Comune, di fronte al disagio dei lavoratori che attualmente sono in cassa integrazione ma che non hanno ricevuto gli stipendi di gennaio e febbraio. In realtà, dal Comune una risposta era già arrivata nei giorni scorsi. Secondo il sindaco Orlando, la battuta d'arresto sarebbe stata prodotta dal commissariamento dell'Inps e proprio dall'Istituto di Previdenza che si attende la firma che sbloccherebbe le erogazioni, visto che le somme necessarie, spiega il sindaco, sono state già trasferite. Al di là del ritardo nel pagamento degli stipendi, i sindacati continuano però a esprimere preoccupazione sul futuro della società e a chiedere il ritorno al lavoro a tempo pieno dei lavoratori e il rispetto degli accordi sottoscritti con il Comune, di cui la decisione, anche se non unanime, di tornare a manifestare in piazza.